E' morto a Pesaro l'imprenditore del mobile Andrea Marinelli, 45 anni, sposato un figlio. Un decesso naturale, secondo il primo referto, stilato dai sanitari del 118, chiamati alle 7 di mattina dalla moglie. Marinelli era molto noto per aver creato un impero industriale vendendo cucine low cost al gruppo Mondo Convenienza. Quasi un migliaio i suoi dipendenti, tra quelli diretti e l'indotto, dislocati in almeno 10 stabilimenti a Pesaro. Marinelli si era sottoposto mesi fa a un delincato intervento alla gola per una forte infiammazione ed era in un periodo di convalescenza. Per questo aveva rallentato molto la sua attività imprenditoriale, portata avanti assieme ad altri familiari. Cordoglio è sconcerto da parte delle forze imprenditoriali del territorio. Non è escluso che nelle prossime ore venga disposta l'autopsia per stabilire le cause dell'improvviso decesso. Cordoglio del sindaco di Pesaro Matteo Ricci per la scomparsa di Andrea Marinelli, immobiliere molto conosciuto in città. Una bruttissima notizia, perdiamo un imprenditore stimato, capace di intraprendere al meglio l'evoluzione della società e dell'economia vicino al territorio. Al grande spirito imprenditoriale, aggiunge il primo cittadino, che lo ha portato negli anni a diventare uno dei più importanti produttori di cucina in Italia, ha affiancato il sostegno dello sviluppo della città in molteplici forme, tra cui il rapporto allo sport pesarese e marchigiano. Una figura, conclude Ricci, che ha rappresentato al meglio la laboriosità, il coraggio ed il talento della nostra gente. Siamo vicini ai familiari in questo momento di dolore.